Finalmente un passo avanti verso il riconoscimento dell'indennità di confine. Così la Will FPL dell'Ario Brianza dopo aver appreso dell'inserimento di parte delle sue richieste nell'articolo 50 della bozza della legge finanziaria. Come spiegato dal segretario generale Massimo Coppia, stando alla bozza attuale della finanziaria, una parte delle tassazioni dei frontalieri che la Svizzera avversa l'Italia verrà finalmente destinata al pagamento dell'indennità di confine. Resta ancora esclusa la cosiddetta Pax Tax, cioè la tassazione agevolata per i lavoratori che dedicano le loro competenze alle zone di frontiera, ma speriamo che anche questa possa realizzarsi nel prossimo futuro. Coppia ha poi aggiunto, ora non ci resta che attendere l'approvazione della legge finanziaria e successivamente i decreti attuativi che renderanno effettiva questa misura, garantendo il riconoscimento dell'indennità economica per il personale medico, infermieristico e sanitario in generale.